Ferrovia Roma Nord stazione. La linea ferroviaria Roma Nord nasce agli inizi del 1900 con la tramvia Roma Civita Castellana, una linea a scartamento ridotto che partiva da Piazza della Libertà, dall'altra parte di Ponte Margherita, passava davanti Ponte Milvio, raggiungeva la Flaminia ai due ponti e seguiva la via. Tra le due guerre fu deciso il prolungamento della linea fino a Viterbo e la realizzazione del tratto sotterraneo dall'acqua acetosa a Piazzale Flaminio, con la stazione sotterranea davanti a noi. L'opera, realizzata a tempo di record, fu inaugurata nel 1932 e costituì una sfida costosa e difficile che dimostrò come anche Roma poteva dotarsi di una moderna rete metropolitana come Londra e Parigi. A destra, dentro Villa Borghese, si intravede il cantiere della nuova stazione della linea che assumerà le caratteristiche di una metropolitana. Per dare luce alle gallerie sottostanti ci sarà una piramide di vetro, lontana parente di quella del Louvre. Per concludere, una curiosità. Il grande platano davanti alla stazione è assolutamente spontaneo. I ferrovieri, sperando in una futura ombra, lo hanno accudito per decenni, fino a farlo diventare quello che è oggi.